Ciao a tutte ragazze, eccoci qua con il nuovo video Spacchettamento di campagna 2 Dai, dai, due minuti Allora Partiamo Ciao Gigio, va bene Con il cartaceo E' lì, è lì il tuo micio Partiamo con Altri dieci cataloghi di campagna 3 Ok Quindici cataloghi Di campagna 4 Ok Abbiamo Il catalogo di campagna 5 Che io ho già sbirciato Ci sono delle Non so, manco tra un po' come la copertina Ma vabbè Non tanto perché L'ho già guardato Tra un po' Ho già cominciato a studiarlo Ci sono tantissime La hard Ci sono tantissime novità Sono troppo belle le novità Ma tu mi sei Sì Poi L'avon per te Dove possiamo acquistare in anteprima le novità La fattura che penso che è loro proprio E i prezzi Questo è per i capelli che è questa forma di Nastrino Esatto Sì Poi abbiamo il pigiamino Cioè la tuttina intera come quello Che hai tu Andiamo a random Abbiamo I romantic rose Cioè il bubble bath in L'edizione Limitata Eccolo qua Lo apri Senza cilindrare la scatola Ci riesci tesoro Oh Guardate che bello Sono 400 ml di prodotto Eccola là Va bene Ok ci siamo Non è la mia profumazione preferita Sono sincera Poi abbiamo Uno de De Parfane Il TTA Tomorrow 50 ml di prodotto Non è nostro Impacchettato È impacchettato Però No Poi abbiamo Due Secondo me Ci sono dimenticati di mandarmene uno Perché No ci sono C'erano i gel Il gel doccia Della Nature S In offerta Sono tre Allora Questo cos'è? Mirtillo e lampone Orchidea e mirtillo Sì Il lampone Buonanotte Però di ciliegie Il mio preferito Sì E Il nuovo Poenia No Poenia Sì Quello E Frutto della passione Più vitamine Da 200 ml Poi abbiamo Due gel doccia E No piano Gel doccia e shampoo Da uomo Della Senses Che in campagna 5 Verranno riformulati Quindi Riformulati Cambiati di nuovo Il Packaging Sono sbagliato Ho cambiato Sì Hanno cambiato L'estate Scorsa Esatto Non è Non è Ditto le profumazioni Però Allora Questo è L'Extreme È il Jungle Amazon Amazon Jungle Ok Poi abbiamo Dell'Avonker La crema Aspetta Cosa è questa? Gelsomino E vitamina E Eccola qua Da 400 ml Abbiamo Due Bubble Watt Solito Giglio Bianco E Melograno E poemi Sopera devo Ancora Eh ma Sono chiusi Non riusciamo A A Sentirli Abbiamo Un pediluvio Per i piedi Della Avon Food Water Alla Lavanda 100 ml Due Creme Mani Alla Glicerina Perfetto 75 ml Erano Super Giù 100 100 ml Due Pennelli Per il blush Eccoci qua Ce l'abbiamo Anche noi Sì Ce l'abbiamo Anche noi Potremmo fare Un video Con tutti i pennelli Ecco Il quanto lo facciamo Guarda Quella Lavorazione Il prossimo Ma hai visto Che qui dentro C'è qualcosa Ma io lo dico Sempre Che c'è Tutta Lì dentro C'è Un'intelligenza Rara Lì là La mia Che dal mese Prossimo Inizia a fare Lo stage Dopodichè Scompaglia La circolazione Dopodichè Per un mese Non potrà Ma sì Qualche apparizione Esporale Qui e là Poi abbiamo Avonfem Se vuoi Ti lascio Il mio coniglio Fai video Col coniglio Da 75 ml Avonfem Abbiamo La crema Non è nostro Non possiamo Ho provato E non ci riesci La Family cream All'avena E camomilla Barattolone Da 400 ml Maxi Bianca Sì Bianca Profumo È ottimo Della Planet Spa La mia Dorata Linea Madonna Burro di Caretè Africano Cello Sfogliante Per mani E piedi Eccezionale Micio Da Che ti sei Rivolta Contro Scrub Per mani E piedi Da 75 ml E in Abbinamento Abbiamo La crema Mani E piedi Una Nostra Cliente Gli ho dato I campioncini Mi ha ascoltato E mi ha dato Ragione Che Come Trattamento Mani E piedi Eccezionale Poi abbiamo Mi c'è Un retromarcia Dell'Avon Glove Ci sono Le perle Tini Sì Ops Ci ha lasciato I buchi Nella tovaglia Cazze mille Nella colorazione Warm Gigetto Ti mettiamo Le perle Gigetto Dai Ma vedi che è un po' Spelucchiatino C'è la spugnette Queste sono Le perle Gigetto Guarda Vuoi sentire Vuoi vedere anche tu Le perle Bravo Le vuoi usare Nano Guarda Sembra anche interessato Sembra anche interessato E poi è più interessato Andare a mangiare Che però Finché io non ho finito Qua non ti do Tieni Poi Abbiamo Uno shampoo Uno shampoo Della linea Instant Repart 7 Da 250 ml La cliente Continua a Ordinarmelo Perché si trova Benissimo E di conseguenza Mi ha ordinato Anche Lo shampoo No il balsamo Scusate 7 in 1 Ecco qui Della Vans Technique Ce la possiamo fare Assolutamente Sto arrivando Abbiamo Due deodoranti Roll On Uno Invisibil Dry E l'altro E l'altro è Agli Aggrumi Eccoli qua Tutte e due 48 ore A me piace tantissimo Questo Infatti Secondo me È il più buono Abbiamo provato L'altro Cos'era Tropicale Una roba del genere Ma non è buono Più buono Quello di limone Qui abbiamo Una palette 4 Sì Arrivo Nella colorazione Poi intanto Purple Edge Ecco qui Con lo specchietto Con lo specchietto La nostra bellissima tovaglia Tutta la Lata Dal Ghiatto E questi qui Sono le Colorazioni Pino Cosa c'è Un rosino Allora Questo è un marroncino Proprio rosino Così carne Questo è un rosino Viola E Grigio Scuro Esatto Questo è quasi un melanzano E questo è un grigio Piombo Quando faremo Il video In collaborazione Con la Francesca Ce l'abbiamo anche noi Facciamo gli swatch Perfetto La scatolina E abbiamo un altro No questa è una cipria È una cipria compatta Nella colorazione Toffee Quindi dovrebbe essere La più scura È da 10 grammi Direi Penso che la cliente Finalmente sarà contenta Pelicolina Spero E spugnetta Sì è uguale A quella che ci ha fatto vedere lei Però lei Era di un'altra marca E quello è il ciocco Io non so manco Chi ti stai riferendo Tranquilla Io proprio Abbiamo un'altra palette Che ce l'abbiamo Mandata a prendere Anche per noi Quindi nel video Del Aul Possiamo swatcharla È stupenda Allora Questo Anche questo È un beige Un beigeolino Dorato Quasi Questo è rosa Un bel violetto E Grigio argentato Beh È bello Ovviamente Questo qui So parlare Ce ne sono Tra shimmer E uno matte Sì Sì matt Sì matt Guarda Questo È shimmer Anche questo Tranne questo Esatto Però Uno sputacchio di brellucicchino Ce l'ha Uno sputacchio Tu hai gli sputacchi Mi ha proprio che piacciono Poi Ma non farci caso È il tempo Sì ma infatti Fuori c'è un Tempo da farci Da notare Da notare Ieri si stava Al pomeriggio Si stava bene Senza giubbino Infatti io Alle macchine Che non me le ero messa Ma oggi Me lo sono dovuta Tenere su per forza Che sembra Che ci fosse La bora Abbiamo la mitica Cipria Della color trend Che questa Non mancherà mai Mi sa Eccola qua Che è la cipria Secondo me Migliore Ma il nostro Non c'è Ogni tipo Ha il suo Te l'ho già detto Mille volte Ecco qua Che noi Secondo me Dovremmo Perché la nostra È più chiara Se non sbaglio Sì La prenderemo anche noi In quella colorazione Lì Eccoci qua Poi abbiamo Due matite In linea Rocchi Della color trend Abbiamo Una white Ah L'aveva fatta Anche la glimmer Stima La glimmer Glimmer Le ha lasciate Fuori un po' Poi Se ti ricordi La cercavo E diglielo Che c'è Sicoli fa Magari glielo dire Ciao L'altra È Nignite Blu Abbiamo una cliente Che lei C'è col blu Ce l'ha col blu Che cosa è successo? Eh ho beccato con il gomito Lo spigono Che non fa bene Infatti Oltre a quella Ho preso anche la glimmer Stick Diamond Nella colorazione Poi lei Sparkle Perché a lei piace il blu Il blu Azzurro Tutto quello che è Lei Lo ama Oddio Mi sono vista su un altro No Ho calcolato i tempi Ho calcolato i misuri Poi una glimmer Stig normale Nella colorazione Cosmic Brown Che in questo periodo Ce ne hanno Organizzate Ordinate Una Ecco dove le ho messo il mio uomo Pasqua Esatto È lì Me l'ho regalato Sì perché se è messo il Pasqua Adesso Di serio Un manco Me ne ho raccolto Poi Continuiamo Con Tre Bastami per le labbra Di cui Due Di quelli nuovi Della Color trend Uno L'arancio E uno Lampone E sono Quanti grammi sono Prova a guardare 1,4 Forse Eh signor Non lo so Dovremmo Sotto qua Beh no Dai Non sono i nostri Niente No Non riesco Dopo vedremo Sul Esatto E poi Quello Al Cioè il micio Però sta lì Gersonino E vitamina E Eccolo qui Dell'Avonker Che si può abbinare Con la crema Ok Abbiamo Una Matita Labbra Quella Che è questo Esatto Bravissima Ultracolor Lipo Ready Ready For Me Ah no Si è aperto Facci No Di solito Infatti Sono tirato Su le mani Per niente Allora Ritira giù Quello lì Noi non ce l'abbiamo Quel colore Lì Le stick Ideal flowers Nella colorazione Medium Che non possiamo farvi vedere Perché non sono Nostre Quando ce l'avevamo noi Questi secoli Si ce l'abbiamo Otto secoli fa Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Anzi no Cinque E Un Mascara Super shock Che Mi sembra Solo un panda Bene Era in combo Con le perle Se non sbaglio Secondo me Era in combo Con le perle E poi Abbiamo I rossetti Ultracolor Indulse Cominciamo Con il Poppy pink Eccolo qua Fai vedere tu Lo swatch Fai senza farlo vedere Perché Li abbiamo fatti Gli swatch Ecco qua Poi non sono Ancora No qua c'è ancora Un rossivo L'ho già fatto vedere In un altro video Se vogliono vedere Cos'è Due o tre video fa L'abbiamo fatto Quindi non devono Scorrere tanto In giù Ma se non mettiamo Ci sono Però Delle scatole Diverse Guarda Avevano finito L'inchiostro A proposito L'inchiostro La nostra stampante Accorto Di magenta E ciano L'hai fatti fuori Tu Eh Sì Un po' ci sono Ancora Lilac 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 Qua Poi abbiamo Un honey flower Se riesco ad aprire Perché se non sono nostri Fai venire Fai venire il mal di mare Alle nostre Scusate Non volevo Honey flower Eccoci qua Non mi entusiasmo molto Però Mi piace Sono profumati Sì su quelli profumati Sì su quelli profumati Ah questi Qui hanno il fattore Di protezione Questi qua Questi rossetti qua Hanno il fattore Di protezione 15 tesoro E pianta No diventi un panda Sono già un panda Un petal No Orchid Petal Eccoci qua Royal Poeny Capolino Poeretta È andata Non è colpa mia Io non c'ho trovato niente È arrivato Così Sì Perché evidentemente L'hanno messo lì Cioè l'hanno messo Ecco qua Do Sì non è Insomma Sono sempre molto Discutibili Le confezioni Con cui noi diamo La roba Le consegniamo Alle nostre clienti Però non è neanche Colpa nostra Il red tulip Mettiamo scotch Red tulip Eccoci qua Aspetta Lo stiamo fuori Se no Ce lo dimentichiamo Se lo lasciamo fuori Esatto Aspetta Cioè questo qua È accartocciata Sì Vedete Come Guardate qua E qui E qui Red tulip Ah quello che mi è rimasta La striscia qua Per quasi una settimana Esatto Eccoci qui ragazzi Queste sono tutte Quelle che Ci hanno ordinato Le nostre Ma lascialo stare Poverino Mi vai a rompere le scatole Lui le rompe sempre a me Alla domenica mattina Le ho Niente ragazzi Noi vi lasciamo un grosso bacio Ciao Al prossimo video Alla domenica mattina